A Novara per fare una partita come le altre, noi proviamo sempre a cercare la vittoria e proveremo anche a Novara la stessa cosa, sapendo che affrontiamo un avversario difficile ma lo ripetiamo dall'inizio, lo ripeteremo credo fino alla fine, sicuramente non credo. Sappiamo l'insidio che può nascondere questa partita, quindi non partiamo a sprombattuto. Vogliamo affrontare una partita matura, da squadra in grado di saperla fare, di saperla comandare quando è il momento di provarci e di saper soffrire, quando ci sarà il momento di saper soffrire perché in ogni partita ci sono momenti positivi e negativi, dovremo essere bravi a saper resistere nei momenti negativi per provare a proporre in quelli positivi quello che abbiamo da proporre. L'insidio è di affrontare una squadra che credo sia un erro abbattuto fino adesso, il Frosinone in casa e il Palermo fuori quindi penso che queste due partite possano dire quali insidie ci aspettano. Non ci interessa quello che fanno gli altri, noi sappiamo che dobbiamo andare fuori a provare a fare partite simili a quelle che abbiamo fatto in trasferta perché quasi sempre siamo riusciti a fare la prestazione migliorando i dettagli perché con qualche dettaglio in più sicuramente saremmo usciti da diversi campi con dei punti e noi abbiamo voglia di uscire da Novara con dei punti. Abbiamo fuori questa settimana, gli indisponibili sono Marrone, Delia, Morleo e Capradossi e tutti gli altri sono a disposizione del gruppo e pronti per poter fare una grande partita perché nelle prossime due settimane abbiamo da disputare quattro gare ed è importante avere tutti a disposizione, tutti pronti per di volta in volta riuscire ad ottenere il massimo provando sicuramente a fare il massimo. Fuori casa qualcosina dobbiamo fare meglio, non tanto sotto il punto di vista delle prestazioni dobbiamo essere in grado di fare una partita matura perché nei momenti in cui gli avversari alzano il ritmo e ci mettono pressione raramente siamo in grado di venirne fuori subito spesso dobbiamo concedere tanto prima di riuscire a venire fuori questo è un grande margine che dobbiamo avere soprattutto fuori casa dobbiamo essere in grado di saper soffrire quando c'è da soffrire ma provare e continuare a fare quello che sappiamo fare immediatamente dopo Le vittorie sicuramente aiutano a poter lavorare con un pizzico di serenità in più ma non devono essere un tranello perché la serenità non deve essere la tranquillità noi non dobbiamo avere la tranquillità di lavorare dobbiamo avere la serenità di voler lavorare e metterci sempre quel pizzico di timore e rispetto nei confronti di chi affronteremo per poterlo affrontare con la massima concentrazione perché non possiamo permetterci di fare una partita come quella di Brescia ma dobbiamo avere voglia di rifare una partita tipo quella di Salerno migliorando quello che c'è da migliorare io non guardo la formazione prima per fare quella dopo penso a mettere in campo i giocatori che reputo migliori per quella gara sapendo che a qualsiasi scelta faccio ogni partita ne ho tanti a disposizione per poter cambiare la partita in corso appena detto ai ragazzi che è fondamentale chi inizia la gara ma è determinante chi subentra per poterla incrementare nel ritmo e nella qualità del gioco come è stato fatto nelle ultime gare avere a disposizione tanti giocatori bravi che si sentono partecipi è l'obiettivo mio perché deve essere un vantaggio come ho ripetuto più di una volta quello di avere dei giocatori in grado di poter fare bene la gara e di poterne avere diverse a disposizione quindi noi abbiamo questa fortuna e dobbiamo continuare a far sì che sia una fortuna perché per il momento sono contentissimo di come stanno facendo i ragazzi che vengono chiamati in causa subito e di come stanno facendo i ragazzi che subentrano